Uno studente della scuola superiore, appena finita la scuola, può decidere di iscriversi ai nostri corsi laurea del dipartimento di farmacia e può scegliere tra tre percorsi, tra tre corsi di studio. Puoi iscriversi al corso di laurea magistrale al ciclo unico di cinque anni in farmacia, oppure può iscriversi al corso di laurea magistrale al ciclo unico di cinque anni in chimica e tecnologia farmaceutica, oppure può optare per il corso di laurea triennale in scienze dei prodotti erboristici della salute. Questo corso a sua volta si disarticola in tre sottopercorsi che sono scienze erboristiche, informazione per la salute e controllo di qualità. Negli ultimi anni il nostro dipartimento ha anche attivato un nuovo corso di laurea magistrale in scienze della nutrizione umana di due anni a cui si può accedere o con una laurea triennale magistrale di ambito sanitario, scientifico, farmaceutico, agronomico o alimentare.